buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di black box il podcast di guido brera benvenuto guido ciao simone ciao a tutti allora per la seconda volta consecutiva dato che parliamo di stati uniti accompagnerò io guido facendogli un po di domande su quello che succederà ormai a breve e mi riaggancio proprio alla fine della scorsa puntata per chi volesse può recuperarla facilmente su tutte le piattaforme gratuite abbiamo concluso la scorsa puntata con la questione dei salari minimi negli stati uniti che dal 2007 non aumentano proprio qualche giorno fa donald trump si è fatto riprendere mentre lavora in un mcdonald's e alla domanda aumenterà i salari minimi come dicono americani has dodge non ha risposto è un tema però importante nella campagna elettorale perché lui accusa accusato kamala harris di volerli aumentare peggiorando quindi il debito che ne pensi ma intanto quella foto di di trump con le patatine fritte sotto un profilo mediatico è geniale ora io non voglio passare assolutamente per trampiano perché non lo sono e qui non diamo diciamo giudizi no di parte il tema dei salari minimi è un grande tema decisivo perché se voi vedete insomma dal 2000 ad oggi no da quando è entrata la globalizzazione di fatto la cina nel wto c'è stato un incremento della produttività esponenziale e per la prima volta dal dopoguerra produttività e salari si sono sganciati cioè voi vedete una una linea che sempre cresce che è la produttività dalla fine a seconda guerra mondiale fino ad oggi e poi un'altra linea che sono i salari medi che seguono la produttività fino all'inizio degli anni 2000 poi lì vanno piatti ecco quello è un vero tema è chiaro simone che però anche i democratici voglio dire hanno avuto molto tempo per raggiungere quei salari minimi e non l'hanno fa sono guido brera e questo è black box la scatola nera della finanza un podcast prodotto da cora media e sponsorizzato da docebo ritorno un attimo sull'immagine di trump però poi altre domande in realtà sempre su questo filone economico perché proprio se ne sta parlando molto in questi giorni allora io ho questo ricordo di mao e nixon che si incontrano nel 1972 mao dice io ti ho votato lo sai e nixon gli dice ah perché sono il male peggiore lui gli dice no no a me piacciono i politici di destra e nixon gli risponde sai negli stati uniti i politici di destra spesso alla fine fanno le politiche di sinistra c'è un po visto che l'altra volta abbiamo parlato di ribaltamenti e oggi parliamo un po di dilemmi c'è un ribaltamento effettivamente di un trump no più working class di una harry's più elite questa roba qua conta alla fine poi ad esempio anche nelle valutazioni dei basket che abbiamo detto la scorsa volta al di là del voto i mercati come prendono queste posizioni allora questo è un tema interessantissimo per questo io credo che queste due puntate di black box sia stato tempo veramente ben speso e spero ci ascoltino in tanti perché c'è un ribaltamento totale trump è appoggiato da una parte dei cosiddetti anarcho capitalisti che erano nati ovviamente erano di formazione democratica si può dire simone di formazione quella roba lì che tech is cool no è fico la tecnologia è fico san francisco la silicon valley eccetera eccetera the world is flat in fondo questo libro che cantava la globalizzazione come un mondo di grandi opportunità poi sfocia nella tecnologia tecnologia portata di tutti e tutta questa retorica della sinistra progressista che ovviamente si fonde con i nuovi tech guy tanto che poi la contrapposizione erano tutti quelli cattivoni che facevano petrolio eccetera eccetera oggi qui c'è un'inversione chiara e che è la prima inversione o poi io vorrei usare e mi sporgo un po più in là perché mi fa piacere allora dovete sapere che io simone non ci siamo preparati per questo podcast perché volevamo arrivare tutti e due proprio nudi a questo podcast senza sapere l'altro cosa diceva è una cosa interessante io non ho nemmeno l'idea così chiara che trump attaccherà la cina cioè la butto lì forse trump ricuce quello che aveva distrutto secondo me anche parzialmente a ragione cioè tutti quei gli architravi della globalizzazione che trump ha frantumato dopo il 2016 potrebbe ricrearli ovviamente su basi diverse ma siamo così sicuri che trump sarà nemico della cina perché ad oggi simone chi paga il conflitto america cina è l'europa asml che è la più grande società di semiconduttori europea ha un ban da parte degli americani a vendere per esempio in cina o comunque qualcosa di simile a un ban ecco io non lo so trump è un imprenditore e come tale potrebbe ricuscire ricordaci simone tu che segui anche hai seguito per tanto tempo anche la politica italiana e tutto ricordacelo te quei tempi in cui quando si volevano fare le riforme si chiamava il partito comunista no per cercare di dialogare con i sindacati non potrebbe essere la stessa cosa lo chiedo io a te ma guarda allora in cina si sta parlando molto ovviamente dell'elezione americana c'è stata un'interruzione a causa ovviamente delle misure economiche che hanno insomma fatto un po il pieno di attenzione e io ripescato proprio in funzione di questo appuntato ripescato un articolo di foreign affairs di quest'estate di agosto di tre cinesi di tre autori cinesi tre professori uno dei quali wangis è stato anche consigliere di hu jintao il predecessore di xi jinping in pratica questi dicono trump ci ha messo le sanzioni ok biden addirittura potenziate ma in realtà trump non è stato nemico della cina in termini di politica estera è stato molto più flessibile e quindi loro dicono trump cosa farà si disimpegnerà dall'ucraina probabilmente darà completamente mano libera a israele si concentrerà forse più sull'asia però taiwan ha detto che servono i soldi per difendersi alla corea il giappone l'aveva già detto la volta scorsa insomma forse nel lungo periodo perché i cinesi stanno discutendo di questo adesso cosa ci conviene nel lungo periodo forse nel lungo periodo loro vedono meglio una presidenza trump da un punto di vista cinese anche perché io credo che questo recupero della globalizzazione che hai detto sia una cosa su cui loro contano perché un nemico in questo momento della cina è la deglobalizzazione di fatto ecco questo è molto interessante siamo vorremmo intestarci a questo punto per non vedere poi dopo tra sei mesi scritto l'articolo si torna alla globalizzazione intestarci questo rischio no lo diciamo prima tanto e qui arrivo ai mercati allora i mercati oggi c'è un indice di volatilità post elezioni sostanzialmente ci sono la faccio molto facile c'è un indice che scommette quanto sarà con quanto si muoveranno i mercati il giorno che sapremo chi vincerà ok allora questo indice stima proprio il movimento dei mercati qui più è alto l'indice e più i mercati sono preoccupati del post elezioni perché vuol dire che si aspettano dei movimenti molto grossi da un lato o dall'altro dei mercati questo indice ai minimi da quando si parla di elezioni 2024 questo che cosa vuol dire vuol dire che alcuni protagonisti del mercato la pensano un po come noi adesso non vorrei dire in maniera che questo non è gattopardo tutto cambi perché tutto resti com'è però è un ricucire da parte di colui il quale aveva devo usare rottamato ahimè rottamato tutto quello c'era prima e questo si vede dalla tecnologia perché altrimenti la invidia è sui nuovi massimi ora se il mercato stima una possibilità diciamo di vincere trump diciamo il 50 per cento e allora non dovrebbe essere sui nuovi massimi invidia si dovrebbe avere paura di una guerra commerciale si dovrebbe paura avere paura di dazi molto molto pesanti e tutto ciò non c'è il dollaro è forte anche questo c'è una deurizzazione pensa questo è un grande tema quindi allora siamo in due a vederla così in italia e per ora siamo solo due potrebbe essere molto interessante se tu simone facessi io ormai faccio i podcast se tu facessi l'investitore avresti adesso una chance di fare un sacco di soldi se hai ragione preferisco eventualmente se mai dovessi investire chiedere consigli a chi ne sa mi è venuta in mente una domanda mentre parlavi a proposito di dollaro e deurizzazione la scorsa settimana c'è stato il vertice dei brics però e si parla in maniera molto forte sebbene sia ancora una chimera ci sono ancora molte difficoltà poi all'interno dei brics insomma india cina costituiscono un problema ma si parla di una moneta unica dei brics ricordiamo che sono ormai insomma la gran parte della popolazione mondiale rispetto al g7 più popolazione mondiale rappresentata dai brics sono i paesi che di fatto cresceranno di più nel prossimo futuro dunque la moneta unica sarà inevitabile nel medio lungo periodo mi aspetto anche che i trade per quello che riguardano le materie prime petrolio in primis potrebbero finire anche in parte in un paniere non lo so la butolì anche di cripto valute quello sarà inevitabile io adesso devo dare però sempre ricascare nella nella decadenza tra tutta questa questo che ci stiamo raccontando io credo credo che allora il conto lo potrebbe pagare l'europa cioè oggi l'europa se sta ferma perde sicuro quindi deve fare qualcosa deve muoversi perché perché c'è una parte di brics che si mettono accordo per fare una loro valuta il dollaro resisterà in un certo senso e l'euro fatica sempre di più ti faccio una domanda provocatoria per muoversi l'europa deve di fare trump ecco questa è la mia view posso dire no scusa un termine inglese la mia visione è che in un momento del genere noi abbiamo sempre detto monne l'europa si farà da come saprà reagire alle grandi crisi crisi con trump arriverà una crisi non sarà secondo me una crisi sarà una crisi esterna ovvero trump da imprenditore guarderà di nuovo magari all'asia come aveva fatto obama prima di lui guarderà sistemare la guerra come detto in russia guarderà anche al sud america guarderà le risorse venezuelane del petrolio potrà fare molte cose quello che sicuramente farà lascerà un po abbandonata l'europa chiederà i conti per la difesa e a quel punto sarà molto complicato per la francia la germania e l'italia magari non riuscire a fare un bon comune per la difesa per una coperta bancaria che ancora non c'è ecco io se proprio te la devo dire credo che per l'europa serva necessariamente trump bene ti faccio altre aspetta simone no non è finita qua e non finisce qua perché chi ci sente vuole sapere tu cosa pensi ma io credo che l'europa abbia dei problemi a prescindere diciamo da trump e probabilmente con una presidenza democratica si andrebbe avanti così come si è andati avanti adesso e cosa significa questo secondo me il vantaggio per l'europa di un'eventuale presidenza trump potrebbe essere ma dovrebbero cambiare molte cose una riapertura dell'europa di fatto proprio quel mondo lì dei brics se scudiamo la russia ma parliamo di cina parliamo di indonesia parliamo insomma di quell'asia che è stata un po' esclusa a parte l'india da questioni puramente geopolitiche pensiamo alle auto elettriche no cioè noi siamo in una situazione nella quale la germania che ha crescita a zero tra l'altro si oppone alle sanzioni contro le auto elettriche cinese perché produce le auto elettriche in cina la volkswagen quindi i cinesi giustamente cosa dicono all'europa non siete autonomi e quindi noi con voi non ci parliamo preferiamo parlare con altri mondi che come dire sono un po più anche pronti a scommettere appunto a essere un po più coraggiosi quindi se deve arrivare come si direbbe a roma uno schiaffone forse è meglio che arrivi prima possibile ecco cioè quindi è un po come io ho sempre visto l'europa un po come il barone come si pronuncia munchausen che si vuole tirare fuori dalle sabbie immobili tirandosi su per i capelli questa è stata sempre l'europa uno stagno credo che trump spingerà l'europa come dici te a riallacciare i rapporti a non avere paura perché oggi l'europa ha paura e mi riferisco al rapporto draghi il rapporto draghi dette alla linea dell'europa noi abbiamo oggi i paletti con cui fare l'europa cioè abbiamo qualcuno che ha fatto una sorta di istruzioni per l'uso però parliamo di un investimento superiore a quello del piano marshall sono tanti soldi sono tanti soldi ti ricordo che l'america comunque stampa emette scusa emette un trilione di debito ogni 100 giorni ti ricordo le dinamiche debitorie del giappone che ormai sono un po da libri di università questi stanno si sono comprati tutto il loro debito pubblico e continuano a emetterlo e anche la cina oggi no ha deciso di seguire questa via di forte espansione quindi non non credo che l'europa sia la sola poi a utilizzare questo tipo di arma che poi ha tanti risultati anche risvolti negativi ma sempre ritorniamo al famoso tema debito buono debito cattivo ecco a proposito del debito ti faccio un'altra domanda la scorsa settimana il fondo monetario internazionale c'è stato il consueto incontro e hanno proprio denunciato il problema del debito sia per gli stati uniti sul quale c'è un dibattito acceso no perché trump è per tagliare le tasse invece harris come al solito non la solita contrapposizione è come la mettiamo però rispetto agli organismi internazionali contro i quali tra l'altro nascono i brics di fatto il tema del debito per me è il tema dei prossimi dieci anni e noi abbiamo speso più di quello che avevamo un po l'inflazione eroso il debito ma non dimentichiamo che oggi comunque il debito costa cioè il concetto del debito è un concetto liquido no se i tassi sono a zero o tu hai un debito che non ti costa e quindi puoi averlo molto alto e non te ne accorgi quando tu hai i tassi come ora te ne accorge come anche qui a dieci anni il tema sarà lavorare non tanto su un tasso inflazione molto alto che erode il debito secondo me ma secondo me bisogna fare un lavoro diverso postare adesso dico magari una cosa molto forte su cui ho scritto anche un libro nel 2020 che si chiamava alla fine del tempo cioè noi filosoficamente abbiamo avuto una guerra cioè la guerra in realtà non è stata la seconda guerra mondiale ma è stata una guerra generazionale e anche a livello di singoli stati tra imprese tra chi poteva delocalizzare sfruttare tutti i benefici e le asimmetrie di una globalizzazione chi invece non poteva farlo no quindi una guerra tra classi sociali una guerra tra all'interno di uno stesso paese e ci appresentiamo anche ad avere una guerra generazionale perché noi non possiamo lasciare in eredità ai nostri figli e i figli dei nostri figli un pianeta da aggiustare e un debito da ripagare filosoficamente quindi non da finanziere simone ma filosoficamente tutte le volte ci sono stati così tali disordini si è cercato di aggiustare il debito in qualche modo cioè non dico una rimissione ma dico comunque una rateizzazione un allungamento della scadenza una ristrutturazione chiamala come vuoi io credo che dovremmo aprire una discussione su questo basata proprio su questo impianto quasi filosofico che io ho cercato modestamente solo di darti ed è qualcosa che ha ripreso draghi in qualche modo con il suo piano secondo te no sulla parte debito secondo me il piano draghi è ancora ancorato a una ortodossia perché da corretta e secondo me non era nemmeno il suo compito quello di andare a dire debito alto debito basso il suo compito e lo ha sempre diciamo noi siamo tutti ammirati no del professor draghi è sempre fatto una distinzione molto forte soprattutto negli ultimi anni da quando è uscito dalla icb e della banca centrale europea entrato poi per un periodo anche proprio affare politica ecco lui si è sempre preoccupato del moltiplicatore del debito cioè se io emetto debito se quel debito mi genera una crescita del protettorio lordo superiore all'emissione del debito quindi è virtuosismo cioè un investimento che ritorna se quel debito invece è un debito cattivo cioè da quel debito è una leva finanziaria che estrae valore ma non crea nulla quello è debito appunto che non va bene quello è un paletto molto interessante poi è ovvio che a quello aggiungo io ci trova essere una riflessione importante sul tema del debito e su questo ti invito a riflettere legandoci all'esplosione del debito che il debito è esploso perché i politici comunque si sono sempre cercati di essere più accondiscendenti possibili con l'elettorato ci sono vari studi e questo lo affronteremo prima o poi che parlano di broadcast economy e broadcast democracy cioè da quando sono nate le televisioni e poi ancora più le televisioni di a cavo e poi ancora più internet c'è stato un susseguirsi di promesse sempre maggiori elettorali che hanno spinto chi prima chi dopo a emettere debito quindi è cambiato proprio il sistema mediatico e cambiando il sistema mediatico è cambiato anche purtroppo il sistema finanziario dei singoli paesi senti l'ultima domanda poi magari ne riparliamo dopo il voto possono essere ancora gli stati uniti come dire il luogo dove andare a vedere ad esempio come si risolve quest'ultimo dilemma che di cui hai parlato cioè questa appunto promesse democrazia economia all'interno diciamo di quel gioco infernale che ormai è la disintermediazione sì noi ne dobbiamo parlare dopo gli stati uniti si stanno ponendo il problema che noi non ci siamo ancora posti c'è una lezione che l'herry lessig è un grande diciamo avvocato padre anche di internet ha fatto di recente e ho seguito con attenzione e tutto cora will l'hanno diciamo imparata su cosa è accaduto con l'avvento di un sistema editoriale e media molto più diffuso io credo che i problemi verranno affrontati prima negli stati uniti perché sono problemi impellenti per loro pensiamo all'ultimo podcast che ha fatto cecilia di qualche giorno fa su trump che regala presidente soldi musk scusami musk regala soldi a chi vota una petizione alla fine per votare trump ecco quella roba lì è una roba che secondo me prima o poi finirà e verrà diciamo sistemata ma secondo te è un lievo sapere che mas che è nato in sud africa e quindi non potrà mai candidarsi alla presidenza degli stati uniti o è un peccato non per l'umanità quanto per noi che facciamo informazione per noi che facciamo informazione è un gran peccato simone perché avremo un sacco di cose a raccontare ecco questo sicuramente sì sono sicuro senti grazie guido e alla prossima allora magari dopo le lezioni allora dopo le lezioni tiriamo le somme tiriamo le somme ciao a tutti ciao black box è un podcast di cora news prodotto da cora media e sponsorizzato da docemo scritto da guido brera con i diavoli la cura editoriale di francesca milano la sigla il sound design sono di luca micheli la post produzione il montaggio sono di luca micheli emanuele moscatelli il producer e alex reverengo